Lavoro. Il lavoro per noi è uno degli elementi centrali della nostra politica occupazionale. Per questo abbiamo siglato insieme al Centro dell'Impiego di Moncalieri, Alcisa e la provincia di Torino, un protocollo che permette di aiutare le persone in difficoltà lavorative. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS